Nell'ambito dell'attività dei servizi di prevenzione e repressione predisposti dal compartimento di polizia ferroviario nel corso del scorso anno, sono stati espletati servizi specifici finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati a bordo dei treni viaggiatori e nelle stazioni. L'attività si inquadra nell'ambito di un dispositivo di sicurezza su scala nazionale che ha visto impegnate nell'ambito di questa giurisdizione compartimentale a bordo di treni oltre 1.470 pattuglie, a fronte di 2.544 treni scortati e in stazione oltre 9.600 che con la loro attività hanno conseguito importanti risultati. A fronte dei 30 delitti denunciati sono state 18 le persone tratte nel resto, 73 quelle deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria e oltre 35.000 le persone controllate. L'attività è stata resa ancora più incisiva in quanto si è sovente fatto ricorso all'uso di metal detector e all'impiego di unità cinofile per aumentare la presenza sul territorio della polizia di Stato e garantire una maggiore capillare sicurezza ai cittadini. Giova a segnalare inoltre che in particolare l'attività relativa al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacente ha prodotto importanti risultati. Sono state infatti più di 10 le persone tratte in arresto e deferite all'autorità giudiziaria per detenzione e traffico di droga, provvedendo al sequestro di più di un chile e mezzo di hashish e marijuana.